Trieste non è seconda a nessuno in regione per quanto riguarda le false autocertificazioni esibite durante i controlli delle forze dell'ordine in merito al contenimento di contagio da Covid-19. Il triste primato del capoluogo Giuliano arriva il giorno dopo all'altra notizia da podio data ieri sulla quantità di sanzioni combinate ai cittadini. Ieri in città sono state sanzionate 46 persone su 773 e ben 5 sono state anche denunciate per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Un trend negativo che sembra non lasciare spazio ad altre interpretazioni. Sono stati controllati anche 309 esercizi commerciali nel capoluogo Giuliano ma nessun titolare è stato sanzionato o denunciato. Per quanto riguarda invece i dati riferiti all'intera regione sono state controllate 3.283 persone e 130 di queste sono state sanzionate. Due persone in Friuli Venezia Giulia positive al coronavirus sono uscite di casa nonostante sussistesse l'obbligo di quarantena. Degli esercizi commerciali controllati le attività sanzionate sono state 4 e una di queste ha dovuto obbligatoriamente chiudere.